E' intenzione del Governo nazionale, come è noto, rimodulare sulla base del calo di nascite gli assetti delle istituzioni scolastiche attraverso un piano di dimensionamento che vede coinvolte le istituzioni locali per fornire indicazioni e la Regione Puglia per definire ciò che realmente dovrà accadere. Come era facile prevedere però, gli accorpamenti e la perdita di dirigenti scolastici determinano sin da oggi le prime polemiche, una delle quali interessa il capoluogo che sede anche di una scuola europea che ha ottenuto i primi riconoscimenti nel 2013 e che strada facendo ha conquistato anche una credibilità a livello internazionale. Con il dimensionamento proposto ed approvato con delibera della Giunta regionale lo scorso 28 dicembre, la scuola europea che fino ad oggi ha avuto sede presso il comprensivo centro verrà accorpata al liceo Fermi Monticelli, il che comporterebbe anche un trasferimento di competenze dal Comune alla Provincia da cui dipendono gli istituti superiori. Da qui una dura presa di posizione di Forza Italia che in un documento parla di uno scippo subito dal capoluogo e quindi invoca l'intervento del Governo nazionale. Per dovere di cronaca però va detto che lo scorso 23 ottobre la bozza di dimensionamento è stata discussa in una riunione con tutti i sindaci della provincia e forse anche dopo tali incontri sarebbe stato più efficace a porre il problema evidenziando i timori del Comune, soprattutto in riferimento alla scuola europea. Quanto adesso possa risultare efficace un ricorso al Governo nazionale è da verificare, tanto più perché le competenze sui nuovi assetti scolastici sono state demandate alle Regioni. Va rilevato infine che un conflitto tra Comune e Provincia è l'ultima delle cose che questo territorio può augurarsi, visto che la grave crisi inquiversa richiede comunione di intenti a prescindere dalle singole questioni.